Tiziano Chiarini, responsabile formazione d'Aua Technology Italy. Qual è la rivoluzione che porta l'IoT? Parliamo di rivoluzione nella rivoluzione. IoT nasce prima di tutto all'interno del nostro sistema HDCVI, che nacque per portare rivoluzione nel mondo della TV a circuito chiuso. E quindi raggiungere livelli di risoluzione impensabili per il vecchio impianto analogico costruito su cavi coassiali. Noi siamo arrivati a 8 megapixel, 4K, su un cavo coassiale. E ora ci siamo raccontati, ma è possibile fermarci? Assolutamente no. Dobbiamo trovare le metodologie per fare in modo di seguire quali sono le esigenze del mercato, quali sono le esigenze del continuo cambiamento del nostro società. E cosa più di andare a inserire una rivoluzione che è la rivoluzione dell'alta risoluzione, aggiungendo la seconda rivoluzione, che è la rivoluzione dei dati sul cavo coassiale. Questo nostro vecchio cavo coassiale, installato magari dieci anni fa, che serviva solo per portare delle piccole immagini in una risoluzione molto bassa, ora porta immagini con risoluzioni fino a 8 megapixel, ma in più mi porta informazioni. Queste informazioni sono la base dell'IoT. IoT è Internet of Things, è l'internet delle cose. Quando siamo usciti con questa innovazione nel settore della videosorveglianza, mi sono chiesto, ma cosa centriamo noi con l'IoT? Mi sbagliavo, mi sbagliavo enormemente. Centriamo e come se centriamo? Pensate ad una telecamera messa, tolta la vecchia telecamera, messa una telecamera nuova in altissima risoluzione, è già un vantaggio fantastico perché si sfrutta un vecchio cavo e lo si rinnova senza dover spendere un centesimo. Ma se ci faccio passare anche informazioni, se metto in giro dei sensori anti-intrusione senza fili e questi sensori dialogano con la mia telecamera, la quale manda attraverso questo vecchio cavo coassiale le informazioni ad un registratore, il quale mi registra sia la parte di video che la parte di allarmi e poi vengono gestiti questi allarmi? Vuol dire aumentare di gran lunga la potenzialità del vecchio impianto d'allarme anche, di facendolo diventare nuovo ed unendolo con la videosorveglianza. Per cui l'Internet of Things ci dà una mano forte per essere ancora e sempre di più leader di mercato. Potremmo aggiungere una cosa, mettiamo dei piccoli esempi, semplici, semplicissimi. L'aumento di temperatura, un ufficio, si incendia un cestino della carta, io ho l'informazione tramite la telecamera, senza dover aver messo telecamere speciali, ci sono telecamere che leggono temperatura particolare, con la semplice telecamera IoT di Dawa, io ho l'informazione sullo mio smartphone che è successo qualcosa e posso far intervenire e vedo cosa sta succedendo. Ho un'intrusione? Mi passa l'informazione attraverso la tv circolto chiuso. Ho una piccola serra sul mio balcone? Io ho tutte le informazioni, è di grado di umidità per cui faccio intervenire, semmai non ha fiamento automatico, faccio aprire un cupolino. Anche se mi trovo seduto su un asdraio, in spiaggia, al mare, controllo casa mia, quando voglio, come voglio e perché voglio. Più semplice di così.